Siamo con Andrea Meroni, domenica andiamo a giocare contro la Juventus nella prima gara delle Final 8, deve essere qui un gran risultato ma l'Empoli non si vuole fermare. Assolutamente perché siamo riusciti ad ottenere un grande risultato, ovvero quello di l'accesso alle Final 8 dopo tanti anni che l'Empoli non riusciva a raggiungere questo traguardo in primavera, è sicuramente una soddisfazione ma comunque lo riteniamo un punto di partenza per poterci esprimere dopo due grandi partite dei play-off, sicuramente affronteremo la Juve con l'obiettivo di vincere e andare avanti continuando il nostro cammino. Arriva un'altra Biggio dopo Lazio e Milan, che gara ti attendi domenica? Sarà sicuramente una gara difficile come abbiamo visto dopo Lazio e Milan, che soprattutto contro il Milan non è stato facile, poiché eravamo contro una squadra nuova mai affrontata e comunque alla fine con il sacrificio di tutti siamo riusciti a portare a casa un grande risultato, ma ci aspetterà una partita simile anche contro la Juve dove per vincere dovremo lottare tutti insieme. Tutti insieme e finalmente con una rosa al completo che quasi mai durante l'anno c'era stata? Esatto, sicuramente un altro punto di forza per queste finali sarà tutta una rosa al completo con l'aggiunta di Piu e di Assanna che sicuramente daranno una grossa mano alla nostra squadra, poiché sotto il punto di vista dell'esperienza, poiché siamo una squadra giovane, però non abbiamo nulla da invidiare alle altre squadre.